Musica Venerdì 16 settembre e questa è Occhio ai giornali, la rassegna stampa di Fano TV sul canale 17. Ben ritrovati cari telespettatori, cordiale saluto. Allora cominciamo dal santo di oggi, un santo del 200 circa dopo Cristo, Santi Cornelio e Cipriano, martiri, il sole è sorto alle 6 e 48, tramonterà alle 19 e 37 minuti. Allora andiamo adesso a vedere il tempo subito, non so se riusciamo a vedere la telecamera, no webcam, la telecamera esterna, eccola qua. Allora questa è la città di Fano in diretta, vedete siamo sulla zona del Pincio, tra l'altro si intravedono già gli stand per l'iniziativa floreale che inizierà a giorni. E questo è il cielo, il cielo sopra Fano, un cielo nuvoloso. Oggi avremo un cielo nuvoloso, molto nuvoloso per nuvole cumuliformi, con schiarite solo dalla serata, le precipitazioni saranno con rovescio temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, tra la mattinata e le ore pomeridiane. I fenomeni potranno risultare più abbondanti nel settore centro-settentrionale della regione, le temperature sono in diminuzione. Per la giornata di domani, sabato 17, cielo sereno parzialmente nuvoloso durante la mattinata, con aumento della copertura dalle ore centrali della giornata. Rovescio temporali nella seconda parte, in spostamento dalle zone dell'entroterra verso la costa. Le temperature sono in lieve aumento. Per la giornata di domenica non cambia molto, anzi peggiora rispetto a sabato, perché avremo probabili precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o di temporale. Le temperature saranno ancora in diminuzione. Il tempo rimarrà instabile sulla regione Marche, almeno fino alla giornata di martedì. E adesso andiamo a vedere i giornali. Cominciamo dalla pagina di Fano del Corriere Adriatico. Scuole al via, sosta e sosta selvaggia, gravi rischi per gli alunni, il caos maggiore nella zona del Poderino per i lavori degli interquartieri con via Fanella chiusa. Ecco alcune immagini che il giornale pubblica questa mattina sulla pagina di Fano. Davanti alla scuola media Corridone, l'assalto delle vetture dei genitori lasciate in seconda fila. Gli auguri del sindaco per un proficuo anno scolastico con il tour negli istituti fanesi insieme all'assessore Samuele Mascarini. Una formula per rilanciare il mercato invece degli antiquari è l'altra notizia a pagina 45 del Corriere di questa mattina. A esposizione per un giorno e al coperto è il progetto elaborato da Straccini. Per Straccini comunque questo è il momento migliore per acquistare un oggetto di antiquariato. Il calo dei prezzi e la varietà della scelta sono favorevoli al compratore. A volte basta solo un piccolo oggetto d'epoca per impreziosire un ambiente. La cronaca invece dal quartiere Digimarra, un uomo precipita nel vecchio cantiere, grave infortunio a Fano Alta, un imprenditore di San Costanzo che stava visionando l'immobile del fallimento dell'Apolo Holding. Beciani è caduto nella tromba dell'ascensore perché la copertura ha ceduto praticamente sotto i suoi piedi. Questo imprenditore si chiama Samuele Beciani, ha 47 anni, era lì per un sopralluogo dentro questo cantiere e quindi a un certo punto poi si è sentito mancare la terra sotto i piedi ed è praticamente finito giù. Un volo di, qualcuno scrive 3 metri, qualcuno 5, insomma comunque è un bel volo. Allarme per i giochi pericolosi, invece il Corriere torna questa mattina sulla notizia che alcuni giovani, un po' per noia, un po' per sfidare la sorte, si buttano praticamente davanti alle automobili all'ultimo minuto in transito nella zona dell'aeroporto. E questa mattina interviene anche la deputata Lara Ricciati, il governo dice fa troppo poco, occorrono campagne incisive, il fenomeno riguarda anche Fano per gli agguati appunto alle auto dei ragazzini nel quartiere Vallato. Adolescenti che sbucano all'improvviso dal buio davanti alle automobili, la risposta del Ministero. E poi la manifestazione aria che oscura l'arco d'Augusto, al via la mostra sulla casa sostenibile, i 5 stelle però protestano per il totem posizionato un po' troppo, diciamo che oscura un po' troppo il visuale dell'arco d'Augusto. Mentre sulla pagina della Valle del Cesano c'è l'addio a Marco il diciottenne che è morto dopo un incidente stradale. Lanterne colorate per l'addio, un dolore immenso nella chiesa del cimitero, tanti piangono e si abbracciano per darsi conforto. Il genitore del giovane che invece era al volante dice per noi era come un figlio. Gli amici parlano di lui come di un ragazzo d'oro, tutti reggono una candela, mamma e nonna frante, il prete abbraccia il feretro. Mio figlio dice, il padre del conducente, mio figlio dice è negativo all'alcol test e quindi non è indagato. Lo conferma l'avvocato del papà di questo ragazzo che era alla guida di quest'auto che vedete si è schiantata contro il guardrail dopo una frenata brusca. Cioè il giovane che è morto non era alla guida, lo ricordiamo, dell'auto, era di fianco ma poi purtroppo il guardrail ha fatto il resto. Il corpo del giovane è andato contro il guardrail e quindi è morto. Dalla pagina sempre del Corriere Adriatico, quella di Senigallia, torna la truffa del finto avvocato. E qui bisogna comunque sempre fare attenzione, lo rivolgiamo, soprattutto questo appello agli anziani, lo facciamo continuamente, soprattutto qui nella rassegna stampa. La truffa del finto avvocato, l'abbiamo raccontata centinaia di volte. Anziani consegnano soldi e gioielli. La telefonata, più o meno il tenore di questa telefonata è sempre lo stesso. Vostro figlio ha causato un incidente, questo vi dicono al telefono. Dovete pagare la cauzione perché l'auto è senza l'assicurazione. E molti purtroppo sono quelli che ci cadono, quelli che ci cascano. È una brutta storia. Per un periodo, anche a Fano, ci sono cascati in diversi. Adesso evidentemente si sono spostati questi truffatori senza scrupoli verso Senigallia. Il parroco, Don Giancarlo Cicetti, il parroco del Duomo, dice raccomando sempre di non far entrare estranei nelle case. Anche se qui, poi, per chi conosce bene la truffa, per chi già ha avuto a che fare con questi truffatori, sembra quasi tutto reale, questo è il problema, sembra quasi tutto reale. Poi, se qualcuno di voi dovesse ricevere una telefonata di questo genere, faccia così, mangi la foglia, faccia finta di crederci a questa cosa, vada avanti fino a un certo punto, arrivi a concordare l'appuntamento per la cessione dei soldi, però immediatamente informi i carabinieri, così, o la polizia, insomma. Così, a consegnare i soldi, non ci andrete voi, ma ci andrà la polizia che finalmente metterà poi le manette a queste, o denuncerà comunque queste persone, se qualcuno si sente, o comunque capisce che è una truffa. La Fano, invece, parliamo del calcio, perché c'è un divieto di trasferta per la partita a San Benedetto del Tronto, dopo la riunione del GOS, bene attesa oggi l'ufficialità, ma da quello che si vocifera, pare che per i tifosi del Fano non ci sia appunto questa possibilità di andare in trasferta a sostenere con il tifo i propri beniamini, quindi i Granata. Questa non ci voleva, scrive il Corriere, niente derby per i tifosi. Andiamo sulla pagina di Urbino, invece, perché? Perché da Urbania, ecco la notizia, che un agricoltore è stato assalito da un toro, è stato salvato dalla furia della carica. L'allevatore stava dando il foraggio alle mucche, gettato a terra con violenza. Paura nelle campagne di Urbania, l'uomo è stato tirato fuori dal recinto e poi è stato soccorso. Questa è la notizia che arriva da Urbania. Adesso andiamo, invece, ad aprire il resto del Carlino, la pagina di Fano. Eccola qua, lo scuolabus dà il bidone e protesta, uno scandalo da 300 euro l'anno, genitori imbestialiti, nel mirino i nuovi gestori. C'è anche un'interrogazione del consigliere Davide Del Vecchio. Le domande sono, perché cambiare ditta non era mai successo con gli autisti di prima? Questa è la domanda che si sono poste. Il Comune non ha avuto nessun preavviso. Chiederemo dunque i danni. Linee bollenti ieri mattina negli uffici dei servizi educativi. L'assessore Mascarin si scusa. Sul sito internet istituzionale, un avviso spiega che il trasporto degli alunni riprenderà praticamente da lunedì. Precipita nel vano dell'ascensore. La cronaca, miracolato un imprenditore di Ledi Mondolfo, operato al Torrette di Ancona. Volo di tre metri, alcune vertebre fratturate. Il fratello dice, mi ha detto lui stesso, di essersi alzato da solo come se niente fosse. Referendum Lampi suona la campana per i Contras. Incontro l'altro ieri alla sezione di Leda Antinori. L'ottantenne con tanta voglia di te. Parliamo di un processo che si è tenuto in tribunale a Pesaro, dove alla sbara c'era un 82enne che si era invachito della badante della moglie. Moglie che era costretta a letto dall'Alzheimer. Era una storia che farebbe sorridere, ma in realtà non fa ridere per nulla. È una storia che comunque si è conclusa ieri con la condanna a due anni di reclusione per violenza sessuale e 10 mila euro di risarcimento per questa badante piemontese. L'investitore chiede scusa invece al vigile, ottiene i domiciliari, convalidato l'arresto, il PM aveva chiesto il carcere, l'uomo in scooter con patente e assicurazione scadute. Era una vicenda di Pesaro. Poi, concessioni. Ecco quanto pagano i bagnini. C'è chi versa solo 350 euro e chi arriva invece a 17 mila. Sconti per le associazioni. Più care le aree su cui insistono strutture, di difficile rimozione. Questo è l'articolo che troverete a pagina 15 del resto del Carlino. Mentre sulla pagina di Fano e Valle del Cesano, la morte del 18enne, 18 lanterne volano in cielo per Marco. Evidentemente non a caso sono 18 le lanterne come gli anni di questo giovanissimo che purtroppo è morto dopo un incidente a Sasso Corvaro. Folla, all'addio per il giovane pergolese, morto in un incidente a Sasso Corvaro. La mamma del ragazzo che guidava l'auto dice soffriamo tantissimo. Chiudiamo con la pagina di Fossombrone. Fossombrone c'è da domani e domenica la fiera, la tradizionale fiera di San Matteo. Ebbene, tolleranza zero sugli abusivi. Il presidente di Confcommercio dice servono controlli mirati subito di Alex Zanchetti per la fiera di San Tommaso di domani. Anche chi acquista merce contraffatta e non in regola, attenzione, può essere sanzionato. Dunque anche per chi compra, giustamente, ci può essere il rischio di vedersi appioppare una contravenzione, una multa. Tutto per la rassegna stampa, ci rivedremo domani mattina alle 7.30. Stasera invece alle 8.30 c'è il telegiornale. Occhio alla notizia, arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS